era molto più importante di non avere che non so un ogerro o un minale in fase di costruzione perché non sapevo niente, è chiaro questo discorso, cioè ogerro è uno che può fare il passaggio e l'ha fatto bene, il minale non sa giocare, tenono i piedi a 10 e 10 c'è i piedi alle 10 e 10 così quindi tutta più può fare il passaggio così all'oreglie che sta di là cioè Sarri sta facendo una figura di quattro soldi oggi è vinto contro l'ultimo classifico 2-1 per coppia in canna cioè voglio dire non è la questione di giocatore, lo faceva giocare a Sarri, Spalletti non fai giocare i card, dalle cacciare, lo devono mandare via perché non esiste al mondo che i card non giocheranno lì, è chiaro o no? Ma parliamo di questo fatto? Voi vedi scucciato, voi vedi allenatore, se non hai mai tutto qua, compresa tu Mariano, li dai tutto qua, non ce la faccio più proprio. Fare l'amore è così facile, credo, amare una persona fragile meno.